Per registrarsi alla rivista Digitalia, a partire dalla home page, è sufficiente cliccare sul link in alto a destra registrazione. A questo punto vanno inseriti tutti i dati dell'autore, quindi il nome, il cognome, l'affiliazione e la nazione, e poi l'email, un nome utente e una password che saranno utilizzati per accedere alla piattaforma e inserire i contributi. Al termine dell'inserimento dei dati, bisognerà spuntare le opzioni che si desidera attivare, e poi si potranno inserire degli argomenti di interesse che saranno utili a noi della redazione per capire a quali revisori assegnare eventuali contributi da sottomettere alla peer review. A questo punto andiamo a vedere come si procede per una registrazione, in questo caso fatta ad hoc per questo tutorial. Dopo aver inserito i nostri dati, selezionato la nostra email e scelto un nome utente e una password, quindi selezionate tutte le opzioni, si procede a cliccare su registrazione. Verrà prospettata una schermata in cui veniamo invitati ad aprire la nostra email per verificare l'indirizzo inserito. Il messaggio prospettato conterrà un link sul quale possiamo andare a cliccare per confermare la nostra registrazione. Come segnalato dal messaggio, a questo punto saremo perfettamente in grado di operare sulla piattaforma in qualità di autori.